Sconfitta oggi per l'Azerbaijan dopo la vittoria sorpresa di ieri. Sì, credo che la sconfitta è anche dovuta a una stanchezza perché abbiamo giocato ieri sera alle 8 e questa mattina abbiamo dovuto rigiocare alle 10 della mattina. Comunque rimane il fatto che la Cina è una squadra che secondo me ha possibilità superiori rispetto al Giappone, quindi onore alla Cina. Credo che abbiamo perduto perché eravamo stupiti di domani. Abbiamo giocato a 8 o'clock in mattina e domani a 10 o'clock in mattina, quindi eravamo stupiti. Credo che la Cina è migliore che il Giappone, quindi ringrazio alla Cina perché è una davvero buona squadra.